E avete sentito Leontini? Insomma, come tutte le cose che si fanno in Sicilia, partono ma poi si perdono per strada. Allora, i termovalorizzatori o i bruciatori, come li volete chiamare voi, sono stati considerati l'ultima possibilità per liberarci da un certo tipo di rifiuti. Ed è una cosa anche abbastanza, ormai tecnologicamente, molto avanzata, quindi non inquinano, non fanno. Allora c'è sempre la lotta fra gli ambientalisti, ma sai, le polveri fine, ma poi dovremmo avere tanta roba per tenerle accesi. Però io dico, se si fa un termovalorizzatore per buona parte della Sicilia orientale, per dirti, uno per la Sicilia occidentale, è chiaro che in quattro province non abbiamo la roba da bruciare nel termovalorizzatore. Eliminiamo di andare a portare la nostra spazzatura, perché la nostra spazzatura, portarla addirittura fuori Sicilia con le balle, che costano la barca di soldi, attenzione che paghiamo noi. Perché? Questo è il grande problema. Ora, i sindaci, i sindaci, oggi, i quattro candidati al sindaco di Ragusa, oggi, sono andati alla Camera di Commercio per parlare del... Ecco, la Camera di Commercio, c'era tanta gente, è chiaro, poi è stato organizzato un po' dalla CNA, da altre organizzazioni, ma poi c'erano anche molti candidati. Insomma, tutta questa gente che è andata a sentire cosa hanno da dire i sindaci. Ora, io mi chiedo, ma noi, col discorso dell'Atari, che facciamo, siamo i primi, abbiamo il 78-80% di raccolta differenziata, ma non ci guadagniamo niente? Ma allora, scusate, se io non ci guadagno niente, ma che mi interessa? Gli ho detto la roba così e finisce, allora è lì che manca. Io non parlo di questo sindaco, parlo di tutti i sindaci. Se non organizziamo una cosa seria per cui il cittadino, in qualche modo, si può vedere che fa il bravo, quindi che fa la raccolta come si deve e quindi viene premiato, se no niente, non servirà a nulla, perché noi continuiamo a pagare di più e non serve a niente. Quindi questo è l'incontro dedicato a tutto. Invece domani c'è un incontro interessante che è dedicato alla sanità. È un incontro che si svolge all'Ordine dei Medici, a organizzarlo è l'amico dottore Alessandro Dommi, una persona che stimo particolarmente, di grande capacità, è un personaggio molto corretto da questo punto di vista. E vogliamo andare a capire come i sindaci vogliono parlare di sanità, perché ci siamo accorti, e l'ho detto anche all'inizio di questo telegiornale, che della sanità se ne parla veramente ben poco. Cioè facciamo soltanto frasi, scriviamo, l'altro giorno quello ha detto, ah ora non c'è più l'urologo. E va bene, non c'è più l'urologo, ma qualcuno ha detto, beh ora aspetta, oppure sapendo che l'urologo se ne andava, perché lo sapevamo 8-9 mesi prima, perché quello ha detto, qua non posso operare, non mi date l'attrezzatura, quindi non posso neanche guadagnare, perché i medici guadagnano con questo, e gli dice, a me che faccio? Per me vado dall'altra parte. E finisce così. Questa è la verità. Quindi domani c'è questo appuntamento sulla sanità, che noi registreremo. Non si può fare in diretta streaming, perché non c'è una connessione idonea, all'ordine dei medici, e poi la manderemo in onda sabato alle ore 22. Chi lo vuole seguire, può seguire questo fatto sulla sanità. Restiamo in questo ambito e vediamo un ospite in studio.